buongiorno a tutti dal vostro alcalimo ectelio non si preferite roberto fontana sapete su questo canale youtube proviamo a fare un po di cultura della terra di mezzo molti mi chiedono spesso che lingue parlano gli elfi quante quali lingue parlano gli elfi conosciamo dovreste più o meno aver sentito parlare del quenya e del sindarin ma scopriremo oggi che ce ne sono molte ma molte di più e cominciamo quindi questa presentazione cominciamo allora questo escursus sulle lingue degli elfi o comunque lingue del diarda allora partiamo dall'inizio da quando i balar potenze supreme potenze del mondo che poi sono degli angeli ricordiamoci non sono degli dei scendono nel mondo e incominciano a costruire il mondo con varie vicissitudini che non stiamo a elencare potete leggere si marignone molto bello appunto ricorda tutta la genesi e l'inizio del mondo i balar creano il primo linguaggio che si chiama linguaggio balarin uno dei bala in particolare aule che sarebbe il fabbro del mondo l'artefice però si sente in qualche modo solo nella sua opera di creazione se vogliamo lui e diciamo il bala che esperto in metallurgia esperto in lavorazione della pietra un po l'ingegnere insomma di questi di questi mal e crea delle sue creature si chiama i nani ero però lo redarguisce ero il luvatari di unico lo redarguisce perché solo lui può dare la vita alle creature tramite la fiamma e peritura e quindi diciamo invece perché l'hai fatto insomma aule si si pente di capisce il suo errore è pronto a distruggere la sua opera i nani ma ero visto il pentimento del del vala gli permette di tenerli in vita cioè di non distruggerli ma gli addormenta li lascia dormienti e li mette sotto alle montagne dell'est della terra di mezzo a dormire perché loro devono non possono nascere per primi perché i primi a nascere dovranno essere gli elfi i primi nati aule aveva già creato per le sue creature un linguaggio che chiamiamo auliano che poi vedremo passerà appunto ai nani come vedete ho scritto uno a v vuol dire il primo anno dei vala o anno valiano se volete un anno dei vala corrisponde a 9582 anni solari sono delle ere in pratica quasi sappiamo che nel 3500 degli anni dei vala vengono creati dai vala i due alberi due santi alberi di valino l'albero d'oro e l'albero d'argento laurin e telperion arriviamo ecco quando quando vengono creati questi alberi incominciano invece a contare gli anni con gli anni degli alberi a quello che avete scritto a siamo arrivati nel 1050 dell'anno degli alberi cosa succede che nella terra di mezzo presso il lago di cui viene si risvegliano i primi elfi 144 elfi sono già divisi in tre schiere i primi secondi e i terzi e la prima parola che dicono anzi la prima parola che la leggenda ci narra che viene detto è quella rivolta dai tre padri degli elfi alle loro spose si svegliano nel buio nella terra di mezzo non c'era ancora niente si vedono solo le stelle messe nel cielo da barda la ceditrice e questi questi elfi dicono alle loro spose alle loro dame e la guarda e da cui il nome elen di stelle e così via quindi sarà la prima parola secondo la leggenda pronunciata e incominciano a creare il linguaggio gli elfi la loro principale uno dei loro principali diletti era proprio creare parole creare modi di dire il loro linguaggio si chiama quendrin detto anche quenia primortiale sappiamo anche che melkor il val ha rinnegato quello che già si era ribellato ad eru durante la inulinda durante la creazione dell'universo e incomincia a sviare alcuni di questi elfi o con o in qualche modo portandoli con inganno a sé o proprio catturandoli e poi con torture con con magia nera con con anche delle delle letture sia fisiche che spirituali li trasforma di degrada li li porta la condizione di essere degli orchi e una leggenda anche questa tolkien dice che la riporta ma parlando di possibili leggende sulla nascita degli orchi quindi non sappiamo se sia vero o meno in ogni caso sappiamo che melkor però apprende anche lui il linguaggio dei valari valari era un vala il più potente forse potente come manuel forse di più e melkor quindi apprende questo valarin e lo degrada lo trasforma lo abbassa come 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 linguaggio e lo dà ai suoi alle sue creature agli orchi era chiamato linguaggio or queen passiamo un attimo torniamo agli elfi questi quindi appunto che sono la totalità degli elfi che si sono risvegliati e qui vienen sappiamo che a un certo punto i vala in i valar inviano orome uno di loro per convincere gli elfi a a spostarsi a stabilirsi in aman perché vogliono appunto proteggerli dal pericoli creati da melkor non tutti gli elfi però accettano questo questo invito si abbiamo una divisione una prima divisione degli elfi in due gruppi gli eldar che decidono di partire verso verso aman e invece quelli che rimangono rimangono al qui viene nelle zone ormai circostanti che hanno che hanno in qualche modo colonizzato si chiameranno avari coloro che rifiutano anche il linguaggio quindi il linguaggio si 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 trasforma il quendering che era il linguaggio quenia primordiale comune si divide comincia a dividersi nell'eldar in comune il linguaggio appunto degli eldar e lavare in comune che un gruppo di vialetti che quindi insomma abbiamo poi non si sa quasi niente di questo lì lingua e che però abbiamo in qualche modo unito in questo in questo gruppo avari in comune la divisione avviene nel attorno al al 1100 anzi nel 1105 possiamo essere precisi inizia la grande marcia quella che porterà gli eldar da qui viene alle alle sponde del grande mare verso ovest abbiamo anche un'altra divisione se volete degli elfi dei quendi che saranno i cala quendi gli elfi della luce e i mori quendi gli elfi dell'oscurità non ha niente dal punto di vista etico morale questa divisione semplicemente saranno i cala quendi quelli degli eldar che arriveranno alla fine ad aman vedranno la luce degli alberi quindi verranno chiamati cala quendi mentre i mori quendi sono gli elfi dell'oscurità quelli che rimarranno nell'oscurità della terra di mezzo e non vedranno mai la luce degli alberi a metà ci saranno i sindari elfi grigi che qualcuno uno solo di essi avrà visto la luce degli alberi gli altri invece rimarranno anche nella terra di mezzo comunque andiamo avanti durante la grande marcia innanzitutto noi sappiamo che che gli elfi appunto viaggiavano in tre schiere e i vanyar in oldor e i teleri i vanyar erano comandati da ingue il loro re che poi diventerà loro re in oldor da fingue e i teleri che era il gruppo più numeroso da elue e erano così però numerosi che che erano i teleri erano loro a volte divisi in due sottoschiere una appunto comandata da elue stesso e l'altra da suo fratello olue questa è già divisione i teleri vuol dire coloro che arrivano per ultimi coloro che si attardano perché erano sempre in ritardo rispetto agli altri due e quindi ha formato in pratica poi due due sottogruppi nel primo sottogruppo quello di vanyar e noldor si incomincia il letter in comune a differenziarsi da quello invece dalla parlata che avranno poi i teleri quindi ci sarà il teleri in comune che è il linguaggio più specifico dei teleri incominciano le defezioni nel 1115 sappiamo che un gruppo di teleri comandati da dan si divide dai loro dai loro simili perché arrivati alle rive dell'anduin sono un po spaventati da queste grandi montagne che vedono davanti a sé e decidono di fermarsi di non andare più oltre deviano verso sud e si stabiliscono nelle zone vicino al fiume anduin e saranno quelli che diventeranno i nandor su coloro che tornano indietro quindi il loro linguaggio di teleri in comune si evolverà poi nel nandorin che viene conosciuto anche con altri nomi viene conosciuto col nome di daniano dal nome dei dan il loro il loro capo e poi questi questi elfi verranno anche conosciuti col nome di laicoendi cioè elfi verdi e quindi laico enderin l'abbiamo chiamato nandorin semplicemente per essere più più comodi cosa succede intanto noi sappiamo che nel 1125 finisce la grande marcia per ivagna rinaldo cioè arrivano finalmente sulle coste prima nel belerian e si affacciano sulle coste del grande mare i teleri invece arrivano dopo arrivano nel 1128 tre anni dopo ricordiamoci che gli anni degli alberi sono lunghi sono tantissimi nel frattempo quindi arrivano e vania renoldor incominciano attraversata del mare e ulmos radica una grande isola balar dalla profondità del mare e dalle e diciamo vi salgono sopra vania renoldor e partono e vanno verso haman arriveranno nel partono nel 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 1133 vania renoldor i teleri dovrebbero partire anche loro subito dopo ma succede una cosa succede che il loro re elue mentre vaga nel nel belerian così anche per vedere la bellezza del posto di una foresta nella foresta di neldoreth incontra melian la maia la maia i maier sono una sottospecie di valar cioè sono i famigli dei valar quelli che in qualche modo li servono gli accudiscono e comunque sono la loro servitorio brutto sono sono diciamo appunto dei 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 famigli diciamo così che più che più che più carino e comunque sono esseri potenti esseri angelici anche loro degli hainur anche loro quindi elue si innamora di questa melian e cade in incantamento incantamento che durerà anni 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 dei valar oltretutto anni degli alberi infatti lui si sveglierà da questo incantamento solo nel 1152 i teleri nel frattempo hanno perso il loro re e lo cercano lo cercano disperatamente però ulmo ritorna e chiede anche i teleri di imbarcarsi sull'isola e di andare verso ama a questo punto i teleri si dividono erano già divisi più o meno in due schiere il gruppo di olue decide di partire anche perché sono legati affezionati agli altri effetti che sono già partiti e mentre invece il gruppo di elue rimane nella terra di mezzo per cercare il proprio re quando finalmente il loro re elue appare con melian e decidono di rimanere nella terra di mezzo di non partire più sono ormai così affezionati a questi luoghi che vogliono rimanere lì anche quindi olue parte nel 1150 queste date ve le sto dicendo per dare più o meno un percorso storico se vogliamo le lingue cosa fanno beh chiaramente il telerin si divide in due perché adesso abbiamo quelli che sono partiti sono atti verso amman svilupperanno il linguaggio si svilupperà in quello che si chiama telerin ammaniano mentre quelli che rimangono nella terra di mezzo sono i sindar e svilupperanno l'antico sindarin e quale linguaggio comincia veramente un po a differenziarsi i vanyar e inoldor chiaramente il loro eldarin si è continuato a sviluppare per conto proprio diventerà il quenia protostorico protostorico perché non c'era ancora la scrittura quindi abbiamo solo almeno così ci dice è la leggenda la storia più leggenda che storia appunto abbiamo solo racconti orali mentre invece quando poi arriveranno stabilizzandosi a stabilendosi in amman il loro linguaggio diventerà il quenia valinoreano che in questo momento è ancora abbastanza indistinto fra i due gruppi andiamo avanti leggermente cosa succede al quenia valinoreano vanyar e inoldor vivono nella città di tirion sempre in amars a valino a certo punto i vanyar però decidono di spostarsi sulle pendici del taniquetil il monte l'oiolosse il monte sulla cui cima il monte più alto del mondo sulla cui cima vivono hanno loro residenza mawe e varda le potenze supreme di di arda il loro linguaggio quindi comincia a dividersi a differenziarsi diciamo che vengono fuori due dialetti il dialetto vanyarin e il dialetto noldor in molto simili con poche differenze anche di pronuncia così via comunque sono due dialetti separati vanyarin e noldor in amaniano poi vedremo perché lo chiamiamo amaniano anche anche nella terra di mezzo questo antico sindarin incomincia a dividersi a differenziarsi a seconda delle zone che vengono occupate da questi elfi sappiamo che nel 1300 single termina la costruzione del suo del sud di menegroth la città sotterranea capitale del suo regno il doria e in questo quindi in questo doria ci sarà questo dialetto chiamato doria fin mentre invece gli elfi delle falas cioè gli elfi che vivono vicino alla spiaggia che sono comandati da kirdan parleranno un altro linguaggio cioè un linguaggio leggermente differente che si chiama faladril nel nord nella regione del mithrim avremo ancora un terzo linguaggio che si chiama mithrimin in andorin a un certo punto tornano cioè superano al fine anche loro le montagne in andor scusatemi superano le montagne e prendono il nuovo contatto con gli elfi con i sindar e si stabiliscono nella regione dei sette fiumi nell'ossirian il loro linguaggio prende il nome a questo punto di ossiriandeb cosa succede a certo punto succede che nel 1495 degli anni degli alberi che alberi vengono 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 uccisi uccisi da chi da melkor che prima era stato imprigionato poi si era liberato e aveva in qualche modo il retito parte dei noldor e il retito non aveva messo di zagna fra fra i nord fra fra feanor figlio di fingue e gli altri due figli di fingue che però erano fatti erano sui fratellastri finarfin e fingolfi sappiamo anche che che melkor oltre a uccidere due alberi uccide anche fingue il re dei noldor e ruba i silmarilli dalla casa di fingue i silmarilli erano le sante pietre che aveva creato feanor questo scatena varie cose uno che tutta valinor tuttama piomba nel buio perché non ci sono più gli alberi si chiama occultamento di valinor e feanor coi suoi figli giura di combattere melkor dovunque si troverà e riconquistare e riprendersi i silmarilli ma i valar lo sconsigliano di far questo anche perché non possono giurare anche contro diciamo il volere dei valar ma feanor è deciso e decide e quindi stabilisce di partire e di andare di nuovo nella terra di mezzo a lui si unisce il mio primo momento si uniscono quasi tutti in oldor anche fingolfine finarfin però per andare nella terra di mezzo hanno bisogno di navi gli chiedono i telleri i telleri però si rifiutano perché non vogliono andare contro i volere dei valar e loro uccidono alcuni telleri per per catturare per per rubare delle navi di questo fratricidio il fratricidio di al qualonde il principale artefice principale diciamo protagonista è proprio feanor e i suoi figli che poi prenderanno le navi e se ne andranno da soli nella terra di mezzo lasciando fingolfine ad attraversare e tutta l'elkarax hanno andare verso il nord del mondo passare zanna ghiaccio quindi delle zone piene di iceberg e ciai e arrivare dall'altra parte della terra di mezzo facendo questo cammino del nord e dove gran parte della schiera di fingolfine morirà per ira appunto fra ghiacci e distenti finarfin invece decide di tornare indietro si sottomette ai valar che torna indietro tutto questo ve lo raccontato per dirvi che nel noldorin del noldorin ammaniano quindi abbiamo una ulteriore divisione i noldor che rimangono in amman continuano a parlare questo noldorin ammaniano mentre invece quelli che passano nella terra di mezzo verranno chiamato linguaggio noldorin esule perché loro sono gli esuli quelli che in qualche modo siano autoesiliati da amman abbiamo abbiamo quindi il la scomparsa degli alberi ma poco dopo nel 1495 vengono uccisi gli alberi nel 1500 vengono creati il sole e la luna dagli ultimi frutti dei due alberi e avviene anche la nascita degli uomini che poi vedremo più avanti si sveglieranno anche gli uomini vediamo seguiamo adesso cosa succede ai noldor che sono andati nella terra di mezzo agli esuli allora innanzitutto sappiamo che elusingol per elue sindari viene chiamato elusingol saputo che parte dei noldor si sono macchiati del fratricidio di alcuni teleri che sono suoi congiunti anche lui un teleri di origine telerin ordina che emette un bando ordina che il linguaggio noldorin non venga parlato in tutto il valeria nel suo regno i noldor però sono molto abili nei linguaggi sono abili anche appunto in opere di costruzione e così via sono però abili molto nei linguaggi imparano velocemente il sindari e in qualche modo incominciano a creare un linguaggio quasi misto i due linguaggi che più contribuiscono sono proprio il noldorin e il falathrin cioè linguaggio base è il falathrin quello delle falas perché il linguaggio doria frin viene poco poco influenzato dal dal noldorin sappiamo che nel doria proprio non si parlava mai in noldorin quindi il falathrin e noldorin incominciano in qualche modo a influenzarsi l'un l'altro e da qui nascerà il sindari classico anche perché sappiamo che nel 502 nel 502 viene distrutta a menegroth il re e lo single viene ucciso da alcuni nani e melian se ne torna se ne torna nel suo in amana nella sua della sua patria e quindi l'influenza del doria del doria trin cade completamente e oltretutto anche i sindari si trovano diciamo senza re e vengono fuori poi diciamo i regni fondati dai noldor nella terra di mezzo quindi si si crea questo linguaggio misto questo falathrin influenzato dal noldorin che si chiamerà che si chiamerà sindari in classico è il sindari che poi vada parlato da questo momento in poi nella seconda nella terza era diciamo un piccolo passo indietro il noldorin non abbiamo detto che non viene più parlato ma in realtà in un regno ci sarà un linguaggio noldorin sappiamo infatti che nel 116 turgon crea gondolin la città protetta e in gondoli si parlerà un dialetto noldor chiamato chiamato gondolindren però sappiamo che anche gondolin verrà distrutta quindi anche questo verrà perso ultima ultima diciamo derivazione dei vari linguaggi sappiamo dei nandorin che già si erano trasferiti nell'ossirian fatto all'ossirian deb da da sia i nandor ancora rimasti e questi elfi verdi dell'ossirian nascono poi tutti i dialetti silvani i dialetti silvani sono degli elfi verdi che poi dall'ossiria si spostano in boscoatro in lothlorien e così via e diciamo vengono influenzato fortemente dal sindari perché non riescono a rimanere dei gruppi chiusi e quindi avremo poi le nascite di vari dialetti per esempio il dialetto di boscoatro ricordiamo che il dialetto di boscoatro è quello del regno di franduil e di legolas per ultimo vediamo un attimo il noldor in esule viene mantenuto comunque come linguaggio anche se non è più un linguaggio vivo non è più parlato normalmente però tutti i noldor lo conoscono perché il loro linguaggio diciamo originale e diventerà quindi il quenia classico considerato un linguaggio morto diciamo non più quindi non subisce più tante variazioni ma viene comunque conosciuto parlato perché è il linguaggio sapienziale linguaggio dei testi dei saggi dei libri e conservato come come un'antica memoria dal popolo noldor ecco prima di passare a vedere qualche esempio di questi linguaggi ne approfitto per farmi un po di pubblicità scusatemi ma parlo un po anche delle cose che ho scritto io ecco vi presento tre dei libri che ho scritto che formano una trilogia una trilogia delle guerriere drago è un fantasy classico prende diciamo come come sia come stile sia come argomento se vogliamo i libri tolkeniani la saga tolkeniana chiaramente con delle differenze però diciamo come come ordine d'idea un fantasy classico di quel tipo il verriere drago il primo volume lo spirito del drago che secondo volume il canto dei draghi che è il terzo volume potete trovarli in tutte le librerie fisiche specialmente a Fertinelli Mondadori forse in questo momento un po difficile andarci e lo trovate anche su Amazon per questo motivo se preferite una bella dedica con il vostro nome in elfico potete rivolgervi anche direttamente a me ecco torniamo quindi alla nostra storia delle lingue abbiamo finito questa prima parte quasi voglio farvi solo vedere gli altri linguaggi oltre l'elfico di cui abbiamo parlato gli altri linguaggi quindi esistono nella terra di mezzo avevamo parlato dell'auliano questo linguaggio creato da aule per i nani e appunto si sviluppa poi diventerà quando i nani si risvegliano anche loro e cominciano a vivere nella terra di mezzo siamo con la prima seconda era non è ben definito come come epoca diventerà il linguaggio dei nani chiamato Kuzdul abbiamo anche gli ente anche per loro non è chiaro sono creati da Yavanna probabilmente però non è chiaro quando vengono al mondo e hanno anche loro un loro linguaggio molto particolare lungo serve solo per dire cose importanti cose lunghe entese avevamo già parlato del dell'orquin il linguaggio creato da melkor po diciamo a degradazione del ballarin chi è che lo parla lo parlano gli orchi barrog gli altri creature di morgo morgo melkor e gli schiavi anche che lui ha nelle nelle proprie nelle proprie caverne miniere sappiamo sotto il songoro dream c'erano c'erano delle 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 miniere dove lui faceva lavorare elfi e uomini schiavi ecco vediamo alcuni esempi di questi linguaggi per esempio del ballarin sappiamo il nome di manway in ballarin che mana venus sappiamo anche i nomi del perio per esempio che i brini i brini di il paz e ne vel poi abbiamo ecco esempi di di linguaggi diciamo coniati fra di loro nel quendering quindi si dice quindi però che ho scritto kv nell'avarin si dice invece penni abbiamo questa rotazione questa questa trasformazione consonanti e mutazione consonantica vediamo per esempio che nel 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 telerin ammaniano si dice invece pendi quindi abbiamo tutti questi parole molto simili perché sappiamo che i linguaggi sono sono correlati fra di loro il vanyarin per esempio conserva la suono z che invece nel nel quenia si perde poi e zella e ulban che vuol dire blu e e quendia che vuol dire che vuol dire quenia altre parole dell'elder in comune per esempio una cosa interessante è gala ad albero sappiamo che poi la g iniziale si perde diventa alda ma si mantiene per esempio nel 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 tedre so quando l'ho messo e poi sarà la base del nome galadri però quello diventa da luce scusate non c'entra niente sbagliato vediamo qualche esempio di linguaggio in valarin vediamo che c'è maue che si dice ma'naue nuth mentre telperion ibrin ibrini zil patha nezel insomma un linguaggio abbastanza complesso ma ne conosciamo pochissime parole il quenderin vediamo che i quendi come si scriveva kv anziché la q del quenia in avarin la stessa parola invece si dice penni vi faccio saltare un attimo nel telerin amaniano dove c'è pendi quindi vediamo che abbiamo sempre queste queste relazioni fra lingue perché sono lingue collegate fra di loro il vanyarin è molto simile al noldorin che sarebbe poi il quenia che è conosciuto abbiamo solo delle combinazioni di suoni che non ci sono più nel quenia e zella che vuol dire verde la z non c'è più nel quenia poi invece noldor noldorin ulban anche quasi una b da solo vuol dire blu e quendia che è il nome che invece originale di quenia nel reddare in comune abbiamo galada anche qua vediamo che la g poi il g iniziale non esiste anzi la g isolata non esiste più nel quenia luctiene e questo avrò l'ho messa per per farvi capire dove viene fuori il nome luthien incantatrice e altre parole e barda si dice baradis nel telerin amaniano che conserva anche la b che invece in quenia c'è solo il gruppo mb e così via orquin abbiamo malarocco e golug altri esempi per esempio l'antico sindarin alfa cigno che lepe argento barati ricordatevi come si diceva baradis nel telerin amaniano quindi notiamo la parentela felga che vuol dire grotta e felagund lo scavatore di caverne nel quenia invece suatemi nel linguaggio nandorin quello il daniano insomma sono i dana si lei quindi golda che vuol dire noldo e così via interessante l'indorinand e alla valle della terra dei cantori nell'elfico silvano caras città fortezza vi ricordo caras galadon però galadon non è un nome silvano per quello che non è stato messo kusdul sarebbe la lingua dei nani azanul ruscelli ombrosi baru casce sapete il grido di guerra dei nani baru casata ascia i nani dum caverne casa dum non per niente gundu sala sotterranea felac scalpello felac gundu nargun mordor kibir sorgente e così via il doryathrin abbiamo qualche parola quindi il dialetto del doryath dagnir uccisore ricordate il tuo indefinito dagnir glaurunca uccidore di glaurung gald albero notiamo sempre la vicinanza con la parola rivediamo qua galada albero dell'elderin e istil luce argentata che poi porterà ishil luce di luna e isilme luce di luna va bene io ho finito ho finito questa prima parte parte 1 verrà fatta in seguito anche la parte 2 è più improntata sul linguaggio sui linguaggi umani della terra di mezzo seguitemi su questi canali che trovate e che vedete qua stampati e arrivederci